Ciao a tutti, mi presento, sono Marco, sono un make-up artist. Benvenuti sul mio canale YouTube, finalmente lo intraduriamo. È un canale intanto all'inizio del divertimento e del cambiamento, perché vedremo come il make-up possa cambiare completamente l'immagine della persona. Quello che io vorrei che fosse proprio voi, le protagoniste indiscusse dei miei video, e vi sceglierò a seconda di quello che io leggerò sotto la barra dei commenti. Quindi mandatemi dei commenti, scrivetemi, non lo so, pensieri, fatti, o addirittura datemi delle intitulazioni per le quali volete essere protagoniste, per quale motivo volete cambiare, e a seconda di quella che io riterrò più carina, deciderò appunto di farvi passare con me un'intera giornata e regalare appunto questa esperienza di totale cambiamento. La prima ragazza che oggi è il nostro ospite è Ilaria, lei è una ragazza molto giovane, ha 21 anni, viene in palestra con me, l'ho sempre vista acqua e sapone, e per questo video le ho chiesto io personalmente di farmi da cavia. Quindi la vedremo completamente trasformata, vedremo un'Ilaria grintosa, un'Ilaria glamour, un'Ilaria molto, molto, molto sexy. Bando alle ciance, vi lascio al video, quindi pronti per il cambiamento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!